La cronaca di questi giorni dimostra un aumento dei casi di violenza di genere in ambito domestico. L'ultimo episodio, quello accaduto a Campobasso. Nuova ondata di furti in abitazione nel capoluogo molisano. Le incursioni dei ladri in casa hanno interessato diversi quartieri della città. Questa mattina l'intervento degli esponenti della CGL è a Campobasso sui problemi che riguardano il trasporto pubblico regionale. L'installazione di nuove paleoliche a vasto girardi fa discutere per l'impatto ambientale e la mancanza di benefici economici per le amministrazioni locali. Un saluto e benvenuti all'appuntamento con le informazioni di TLT. In apertura oggi la cronaca. Intimidazioni, aggressioni e percosse in ambito familiare. Una tipologia di reato purtroppo sempre più frequente in regione. Fenomeni aggravati da patologie legate spesso all'abuso di alcolici, stupefacenti o al gioco d'azzardo. In Molise un'altra storia di ordinaria follia tra le mura domestiche, amplificata dall'abuso di sostanze alcoliche, a pagarne il prezzo maggiore moglie e figli di un 55enne irascibile e violento in famiglia, spesso in preda proprio ai fumi dell'alcol. Anni di maltrattamenti fisici e verbali, una spirale di violenze quotidiane interrotte dal coraggio della donna di denunciare i gravi fatti che accadevano in casa per l'aggressività di un genitore non più tale. Dopo le segnalazioni drammatiche da parte della ex coniuge che stanca dei soprusi si era separata, è arrivato il rigoroso provvedimento della Procura della Repubblica di Viale Elena per l'uomo di divieto di avvicinamento ai familiari e braccialetto elettronico per controllare gli spostamenti quotidiani da parte delle forze dell'ordine. Una misura per salvare in qualche modo la vita e da anni di sofferenze in silenzio della donna e dei suoi figli, dalla furia cieca di un marito allo sbando. Al vaglio degli inquirenti del capoluogo anche la documentazione inviata ai servizi sociali delle aggressioni subite in casa dai familiari attraverso schiaffi e pugni. A Campobasso i consiglieri regionali di minoranza del Partito Democratico annunciano la presentazione di un ordine del giorno per parlare delle misure di contrasto alla violenza di genere. Dopo l'approvazione al Parlamento europeo del nuovo regolamento in materia, che vede un ridimensionamento del testo rispetto a quello presentato nel 2022, il gruppo di consiglieri del PD vuole portare all'attenzione del Consiglio regionale l'importanza della prevenzione per contrastare il fenomeno. Tregua finita. Auto e abitazioni tornano nel mirino dei ladri. Tra i cittadini del capoluogo scatta nuovamente l'allarme. Diversi gli episodi che si sono verificati in questi giorni nei vari quartieri della città. La tregua sembra finita e i furti tornano ad allarmare i campobassani. Lo scorso weekend i ladri sono tornati in azione in diversi quartieri puntando sia alle abitazioni che alle auto. Il fenomeno aveva assunto le proporzioni di un'emergenza tra ottobre e novembre scorsi con colpi tentati o andati a segno a cadenza quasi giornaliera. Poi la task force, predisposta dalla prefettura con controlli mirati e più personale delle forze dell'ordine impiegato sul territorio, aveva frenato l'escalation. Tant'è che nel mese di gennaio, come relazionato durante l'incontro con il ministro Piantedosi, i furti erano stati quasi azzerati. Ora invece le bande hanno fatto di nuovo capolino in città. Sabato sera è stata svaliggiata un'abitazione del quartiere Cep in via De Gasperi. I malviventi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, hanno fatto eruzione in una casetta schiera. Facendo razzia di contanti e preziosi. Poi avrebbero tentato altri due colpi in zona San Giovanni senza però riuscirci. Quando gli agenti della questura sono arrivati sul posto dei ladri non c'era più traccia, sarebbero stati però immortalati dalle telecamere. Le immagini al vaglio degli inquirenti hanno ripreso almeno due uomini con il volto coperto. Un altro furto, sempre nella giornata di sabato, è stato registrato in zona feudo. E non si esclude che dietro possa esserci la stessa mano. Domenica, invece, i malviventi hanno colpito a pochi metri dalla questura di via Tiberio, tra il tardo pomeriggio e la sera, rubando un Alfa Romeo Giulia. Il proprietario, purtroppo, si è accorto del furto solo la mattina seguente, quando non ha più trovato l'auto. A sporto denuncia la polizia che ha immediatamente avviato le indagini. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma è possibile che si tratti delle bande provenienti dalle regioni Limitrofe, Campania e Puglia, che hanno colpito la città e i comuni dell'Interlanda nello scorso autunno. Nuova operazione della Guardia di Finanza per contrastare la vendita di merci non sicure. A Chieti sequestrati circa 1.500 prodotti tra cosmetici, giocattoli ed articoli elettrici non a norma. In particolare, i prodotti di cosmesi contenevano sostanze chimiche vietate dal più recente regolamento europeo. denunciato il titolare dell'esercizio commerciale per detenzione e commercio di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana. CGL Molise, Federazione Italiana Trasporti e Feder Consumatori, criticano i vertici della Regione per il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali in relazioni alle scelte agli accordi nel settore del trasporto pubblico. Sono anni che le vicende del trasporto pubblico in Molise incassano critiche per le moltissime difficoltà rilevate nella mobilità in Regione. Condizioni difficili sia per il trasporto su gomma che in quello ferroviario, dove ogni accordo tra aziende e vertici regionali si carica di costi pubblici che non si sono mai veramente tradotti in benefici per i cittadini, spesso peraltro generando debiti e sempre nuovi problemi. Numerose le vertenze aperte e chiuse senza soluzioni, arrivando alle ambiguità attuali dove si sopprimono linee e corse, dove, come per i treni, arrivano dismissioni e disagi, dove neppure si prospettano direzioni positive. Da tutto questo arrivano le critiche di CGL Molise, Federazione Lavoratori del Trasporto e Feder Consumatori ai vertici della Regione, che non hanno coinvolto le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria nelle scelte arrivate e tanto meno negli accordi con le aziende, tra le quali Trenitalia. In questi protocolli manca un elemento fondamentale, a nostro avviso, perché manca l'elemento di valutazione che è quello programmatorio e nella programmazione devono essere coinvolti diversi attori che agiscono sul territorio. Noi pensiamo di essere appunto un soggetto della rappresentanza. Abbiamo interpellato anche Feder Consumatori perché ci sono anche delle regole che impongono nel momento in cui si utilizza denaro pubblico per programmare futuro anche dei trasporti, ma dello sviluppo in generale della Regione. Le associazioni dei consumatori devono essere coinvolte. Non ci pare che sia stato seguito questo percorso. È stato fatto un protocollo freddo, peraltro su nostre sollecitazioni abbiamo avuto delle audizioni con la Regione. C'è uno stato confusionale anche dei diversi attori apicali della Regione Molise. Sono arrivate notizie contrastanti, ad esempio sulla tratta Termoli-Campobasso. Sì, c'è qualcuno che dice che verrà soppressa, altri che dicono che sarà finanziata col PNRR. Non ci pare che ci sia chiarezza. L'unica chiarezza è che hanno parlato dal nostro Consiglio regionale, dalla nostra Giunta regionale, di improbabili risparmi. Non ci sono risparmi, ci sono solo tagli. Cioè è come se tu una cosa non la compri e quindi hai risparmiato. E noi preoccupiamo molto questa situazione. Abbiamo denunciato il fatto del taglio delle corse che ci sono verso Napoli, che provocheranno disagio a lavoratrici, lavoratori, a gente che vuole muoversi anche per mobilità ordinaria, ma dureranno anche un decremento dei posti di lavoro. Lo abbiamo stimato prudenzialmente in 50, ma chiaramente se investiranno l'indotto potrebbero essere molti di più. Ecco, noi pensiamo che quando si parli di argomenti di questa portata, il livello di coinvolgimento dovrebbe essere sicuramente diverso. E quindi stiamo ancora una volta a denunciare metodo e merito di impostazione che una regione come la nostra non può permettersi. E la mobilità a campo basso è argomento di grosso impatto collettivo. Tante le segnalazioni da parte di cittadini per disguidi, ritardi o corse saltate. Intanto si attende l'attivazione del nuovo servizio urbano appena sarà esperito il concorso per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico. Atteso anche l'arrivo di sei nuovi autobus elettrici che saranno alimentati dall'impianto installato nella zona industriale. A Campobasso il Consiglio Municipale è slittato a domani mattina in seconda convocazione. Tra i punti all'ordine del giorno, nella discussione prevista a Palazzo San Giorgio, l'interessante proposta di gemellaggio con il Comune di Bolsena. in provincia di Viterbo, per il legame che entrambe queste realtà hanno con un evento religioso, culturale e storico, come i misteri del Corpus Domini nel capoluogo molisano e la festa di Santa Cristina a Bolsena. Prosegue la protesta degli agricoltori anche in Molise, per richiedere la modifica della PAC europea e di alcune normative nazionali. Istituito in Piazza Donatore di Sangue a Termoli, con il presidio dei trattori che stanno protestando anche qui nel Molise come in tutta Europa. Gli agricoltori lamentano in sostanza problematiche sia a carattere europeo che nazionale, chiedendo modifiche alle politiche agricole comunitarie, che come sostengono vessa le aziende agricole, chiedendo sacrifici insostenibili agli imprenditori agricoli, come anche il crollo del prezzo del loro prodotto agricolo, a fronte di un rincaro degli input, ma anche a carattere regionale, come particolare attenzione alle problematiche relative il dilagare incontrollato della fauna selvatica, la scarsità di fondi stanziati sui bandi PSR e i disservizi legati ai consorsi di bonifica. Una protesta caratterizzata dall'Associazione Uniti per l'Agricoltura, nata con l'intento di manifestare e fare da tramite tra il mondo dell'agricoltura e le istituzioni. Qui in Molise il problema c'è, addirittura dieci anni fa siamo stati i primi a partire, ovviamente è una piccola regione, ma comunque daremo sicuramente il nostro contributo per queste. La cosa importante è che comunque si è mossa tutta Europa, quindi non è soltanto un problema nostro italiano o del nostro governo, è di tutta Europa, di tutti gli agricoltori, della vera agricoltura europea. Quindi questa è la voce che si deve far sentire. Purtroppo devo dire che in Italia siamo tutti gruppi sparsi, e quindi è un po' difficile coordinare il tutto, anche non conoscendo si dice la stessa cosa. Quindi questo, perché il problema quello è. È un problema che tocca tutti quanti, non tocca soltanto gli agricoltori, tocca a me, tocca a tutto il popolo, perché comunque è una catena. E voglio dire che comunque qua ci sono i contadini a protestare, ma dovremmo protestare tutti quanti, perché è un problema per tutti. e comunque anche nel mio settore, cioè gli agricoltori, tanti, hanno mollato il colpo, non abbiamo il posto per mettere le api, comunque si lavora male, è comunque proprio una catena, e dovremmo essere qua, ripeto, tutti quanti a protestare. Questa mattina intorno alle 10 sono partiti in corteo diretti verso Campomarino e Chieuti. Una volta giunti a destinazione, faranno ritorno per riprendere il presidio di Termoli, dove paiono intenzionati a non mollare, tenendo duro, finché dalla parte dei politici europei ed italiani non giungano notizie positive sulle loro richieste. E per la protesta degli agricoltori, la settimana prossima, giovedì 15 febbraio, a Roma in programma una mobilitazione nazionale nelle piazze della città, che vedrà il coinvolgimento di 18 categorie di lavoratori per richiedere la tutela del Made in Italy. Veniamo adesso alla politica. Il Partito di Alternativa Popolare si organizza in vista delle elezioni del prossimo giugno, che riguarderanno sia le europee che le amministrative locali. Tornata elettorale importante per il Molise, il coordinatore regionale Roberto De Angelis si sta muovendo per presentare il programma per le prossime sfide politiche. Sembra che il segretario nazionale Bandecchi abbia espresso la volontà di far correre il partito alle comunali di Campobasso e pare che al momento la linea strategica sia di andare da soli, senza apparentamenti almeno al primo turno. Inoltre l'idea prevalente sarebbe di candidare una donna alla carica di sindaco del capoluogo di regione. La presidenza del Consiglio regionale del Molise ha organizzato in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo un convegno dove si sono affrontate le tematiche relative ad un problema oggi in forte crescita. La sede del Consiglio regionale per volontà dell'ufficio di presidenza retto da Quintino Pallante ha voluto celebrare la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo organizzando, insieme ad alcune associazioni sociali e all'Università di Roma Tor Vergata un convegno sul tema dal titolo facciamo rumore contro il bullismo una iniziativa che ha visto la presenza di due classi della scuola secondaria di primo grado una della provincia di Campobasso l'altra di quella di Isernia. Qualsiasi ragazzo abbia problemi o vede qualche problema che riguarda il fenomeno del bullismo e del bullismo bisogna sempre parlarne in famiglia denunciarlo alle forze dell'ordine parlarne in parrocchia con l'istruzione quindi il messaggio che noi lasciamo è quello che bisogna comunicare. Spesso i reati ricompiono gli adulti è chiaro che i ragazzi quando vengono sensibilizzati da adulti sanno che quello che si deve e quello che non si deve fare chiaramente lì il primo compito è quello della il ruolo fondamentale è quello della famiglia poi vengono le istituzioni ma dare sensibilizzare sotto questo profilo porta a dei risultati che nella società poi dopo si vedono. A distanza di oltre 40 anni il caso di cronaca di Emanuela Orlandi la giovane cittadina vaticana scomparsa nel 1983 aspetta ancora di essere risolto. Dopodomani 9 febbraio all'auditorium Unità d'Italia di Isernia il fratello della ragazza Pietro Orlandi sarà ospite dell'incontro organizzato dagli studenti dell'istituto Cuoco Manoppella. A Vasto Girardi l'installazione di 6 aerogeneratori eolici avrà un notevole impatto visivo i progetti presentati da due società energetiche sostituiranno le pale eoliche di precedente installazione senza benefici per il territorio. 6 aerogeneratori dall'altezza di 200 metri per un diametro di 170 saranno installati a Vasto Girardi sul crinale della montagna di fronte a Agnone un impatto visivo impressionante considerato che ogni singola torre supererà i 186 metri del pilone centrale del Sente Longo tra i ponti più alti d'Europa. A stigmatizzare è il consigliere regionale Andrea Greco si tratta di due progetti presentati da altrettante società energetiche uno di questi prevede un impianto della potenza complessiva di 24 MW ed è già in fase avanzata sottolinea Greco. Gli aerogeneratori andranno a sostituire gli impianti eolici di Montarone e Montarone 2 il progetto prevede spropri nel comune di Agnone e Vasto Girardi ma per gli enti locali nessun beneficio economico come avveniva in precedenza non è tutto la realizzazione del nuovo impianto paradossalmente non prevede la procedura di valutazione di impatto ambientale in pratica l'impianto viene quasi considerato una replica di quello esistente. Da qui esiste la necessità di un confronto diretto con i maggiori interpreti del territorio e soprattutto con chi lo vive e a questo punto è di rimente pretendere dalle società proponenti sottolinea Greco opere compensative utili ad esempio a favorire la nascita di comunità energetiche come forma concreta di ristoro per i cittadini quindi sconti e gravi in bolletta. Difatti nel momento in cui si dimostra l'impatto visivo e in questo caso appare evidente la società sono tenute a dare fino al 3% dei ricavi sotto forma di compensazione all'utenza. L'appello va ai primi cittadini conclude Greco dei comuni interessati affinché facciano prevalere le proprie stanze ed in particolare quelle di una popolazione che nel silenzio di tutti per i prossimi 30 anni potrebbe essere costretta a convivere con i giganti del vento senza avere un euro di vantaggio. Questa sera a Termoli nei locali della diocesi è in programma un approfondimento sull'esperienza del centro di aiuto allo studio mano nella mano dal titolo la forza della vita tra scuola e famiglia. Il centro ha preso avvio nel mese di settembre per il terzo anno consecutivo ed è promosso dall'associazione Amorsi Amoris Letizia. Nel centro di aiuto allo studio gli alunni possono confrontarsi in un clima che favorisce una valenza educativa garantita dalla presenza di docenti professionisti. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Metal Impianti Carpenterie metalliche civili e industriali scale acciaio corten serramenti in alluminio PVC e legno alluminio Metal Impianti Boiano Info 0874 77 34 54 La gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori 30 anni di esperienza nel settore la gamma commerciale e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. La giornata di oggi caratterizzata da bel tempo con cielo irregolarmente nuvoloso fino a sera sul Molise temperature previste dalla minima di 6 gradi a Campobasso fino alla massima di 17 gradi a Disernia e per l'Abruzzo dai 5 gradi dell'Aquila 14 di Chieti ventilazione sud-occidentale poco mosso il mare Adriatico generali condizioni di stabilità domani sulle due regioni cielo soleggiato e valori atmosferici in leggera flessione correnti da ovest passiamo ora allo sport nel giro Neffe di Serie D il Campobasso si gode la vittoria sul Roma City rosso-blu che restano ancora in vetta con la San Benedettese soddisfazione anche per il presidente Rizzetta ed il socio Consuelos al termine della gara vediamo il servizio una vittoria per restare in vetta e ricaricare le energie nella sosta prima dell'insidiosa trasferta di Senigallia rientrano negli States soddisfatti il presidente Matt Rizzetta ed il socio del club rosso-blu Mark Consuelos per l'occasione è giunto nel capologo sugli spalti dell'Avicor per dare un supporto alla truppa di Capitan Nonni una toccata e fuga dell'attore americano che ha avuto a modo anche di tastare con mano il calore della gente in città tre punti importantissimi la Roma City è una squadra fortissima squadra tosta era bellissimo vedere i tifosi qui a Capobasso abbiamo fatto un passeggiato in città oggi abbiamo conosciuto molti tifosi è bellissimo è andato come noi abbiamo sognato quindi abbiamo vinto però oltre la vittoria abbiamo visto io e Mark insieme abbiamo visto una piazza unita una tifoseria che non non è seconda a nessuno e non è inferiore a nessuno a volte perché stiamo lavorando tantissimo quotidianamente a volte dimentichiamo che stiamo costruendo qualcosa di bello ci vuole anche tempo il tempo è la cosa che noi possiamo garantire alla piazza di Campobasso quindi siamo venuti qui abbiamo sposato questo progetto perché ci crediamo in questa piazza in questo progetto un progetto a lungo termine a prescindere dalla categoria L'ultima volta fu quella della sfortunata trasferta di Riano proprio contro il Roma City che di fatto diede il via alla crisi rosso-blu con il conseguente esonero di allenatore direttore sportivo io e Mark stavamo dicendo dopo l'ultima partita contro il Roma City io ho preso l'ario e poi tornato a New York con un'amarezza un'amarezza non perché abbiamo fatto un risultato negativo ma perché abbiamo visto qualcosa che non andava dentro lo spogliato e quindi io e Mark fino a nottefondo abbiamo parlato abbiamo discusso tanto abbiamo deciso di fare queste decisioni che non era facile da prendere però a volte ci vuole il coraggio così per far cambiare e trasformare le cose così siamo contentissimi si vede anche che i ragazzi oggi hanno lottato alla fine era una guerra hanno lottato e sono molto orgoglioso come hanno giocato i ragazzi sempre restando al calcio interregionale il derby abruzzese tra Notarisco e Avezzano termina in favore della formazione teramana vediamo il contributo filmato della gara il ritmo è gradevole ma il notaresco è più spigliato e soffoca l'Avezzano per tutta la prima frazione timide proteste al quinto minuto quando il direttore di gara segna un corner in favore dei padroni di casa che però rivendicano un intervento falloso ai danni di Marrancone la decisione viene comunque accettata senza particolari problemi all'undicesimo ottimo schema da calcio di punizione Casella in acrobazia scarica in rete ma il primo assistente Bosco di Roma 2 alza la bandierina per segnalare la posizione di offside altro episodio Damo Viola al venticinquesimo quando finisce a terra Pietrantoni all'interno dell'area Virgilio lascia correre un minuto più tardi brusca e miracolosa sull'incornata da due passi di Scipioni dopo la spizzata di Marrancone passata la mezz'ora la gara svolta al trentaquattresimo Casella in buca per Marrancone che si aggiusta la sfera ma calcio a debole a fine azione uno scontento Ferazzoli cambia due pedine De Lorenzo e soprattutto Tuncarà vengono rimpiazzati da Goli e De Silvestro i due non hanno nemmeno il tempo di mettere i piedi sul terreno di gioco che Scipioni inventa un gol bellissimo dalla lunghissima distanza libera la conclusione che termina la corsa sotto l'incrocio nulla da fare per brusca poco prima dell'intervallo ancora proteste dopo Pietrantoni finisce a terra Scipioni Virgilio invita il numero 10 a rialzarsi prima di mandare le due squadre a riposo con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa che vede un Avezzano per forza di cose diverso De Silvestro dialoga con Roberti ma conclude debole e centrale blocca Curtosi al quarto d'ora Forte si invola sulla sinistra ma non trova lo specchio stessa sorte per la conclusione di De Silvestro 30 secondi più tardi il numero 20 però va vicino all'incrocio al venticinquesimo un'occasione per parte azione personale di Casella che avanza fino al limite dell'area ma la conclusione termina sul fondo sull'altro versante Mascella Pennella per l'incornata debole e centrale di Roberti a 10 minuti dal termine Senesi prova a suonare la carica con un tentativo dalla lunga distanza che termina oltre la traversa nel finale non accade più nulla Notaresco batte Avezzano 1 a 0 a fine gara mister Ferrazzoli annuncia le dimissioni nel calcio di serie di Il Chieti non riesce più a vincere Nero Verdi fermati in casa dal Sora 1 a 1 il finale in terra abruzzese Stavolta impegno e palle e gol non sono certo mancati eppure Il Chieti fallisce ancora l'appuntamento con la prima vittoria del 2024 contro il Sora finisce 1 a 1 dopo un buon avvio ospite Il Chieti passa in vantaggio al nono grazie alla sua specialità i gol su calcio d'angolo batte Alessandro Gatto inserimento perfetto di Vesi che schiaccia la palla in fondo al sacco sembra l'inizio di un monologo nero verde che due minuti dopo potrebbe graffiare ancora con Masavud sfera al lato di un niente Il Sora si sveglia il 28esimo Tribelli fa venire i brividi ad Antignani la gara ora diventa più equilibrata al 34esimo giallo pesante in casa Chieti ammonito Salvatore che salterà la prossima partita a Tivoli in chiusura di tempo Sora in avanti con questo colpo di testa di Didio bloccato da Antignani ripresa con le immagini di Alberto Capo stessi 22 in campo ma Sora con un piglio diverso quinto minuto gran parata di Antignani su conclusione di Didio all'ottavo arriva il pareggio difesa a nero verde disattenta Gubellini viene servito in area il numero 9 del Sora non fallisce la ghiotta occasione e fa 1-1 il Chieti sbanda e all'undicesimo ci vuole ancora un attento Antignani a sventare il pericolo Gliezzo ordine i cambi dentro Sueva e Bartoli per Alessandro Gatto e Masavud il Chieti ritrova la forza e al 22esimo ha una doppia clamorosa occasione per segnare con Fall che prima si fa ribattere il tiro a botta sicura da Crispino e poi con la porta a disposizione si fa respingere di testa sulla linea la conclusione ancora sostituzioni sia nel Chieti che nel Sora ospiti pericolosi al quarantesimo con il solito Gubellini ma in pieno recupero è il Chieti a gettare al vento il 2-1 con Forgione dopo il triplice fischio la curva Volpi chiama i giocatori sotto la curva vibranti le contestazioni verso di loro e la società nel post partita il direttore generale Demetrio Sartiano parla per una buona mezz'ora con i calciatori negli spogliatoi il clima è pesante e forse è un bene che domenica prossima ci sia la sosta per il torneo di Viareggio alla ripresa il 18 febbraio Chieti a Tivoli Il calo di tesserati e di società di calcio dilettantistiche in Molise è bilanciato dalla partecipazione di club campani pugliesi ed abruzzesi Il pensiero del presidente regionale della Federcal Calcio Piero Di Cristinzi Presidente lo stato di salute del calcio molisano una regione che perde ogni anno perde molti troppi giovani per la scarsa natalità e per la fuga dei giovani stessi verso altre realtà per lavoro quindi a pagarne lo sport in questo caso anche il calcio ma regge il calcio molisano Hai toccato un tasto molto delicato un tasto che a me personalmente sta a cuore in tutte le occasioni cerco anche di rappresentarlo ai nostri governatori della nostra regione a tutte le istituzioni che è possibile immaginare la regione molise perde in particolar modo popolazione perde i giovani i giovani che partono e chi perde perde anche il calcio perché tanti di questi giovani potevano essere benissimo detesserati lo stesso della nostra federazione delle nostre squadre manca zero regge perché alla fine siamo stati forse capaci di capire quello che stava succedendo e un poco con l'autonomia che diverse squadre dell'Interland sono rimaste agganciate con il Molise un poco qualche d'uno si è aggregata negli ultimi anni riusciamo praticamente a tenere bene perché i nostri confini si sono abbastanza allargati perciò società serie società che si impegnano come le nostre anche se sono di regione limitrofe ci danno quella forza necessaria speriamo che termina questo esoto dei nostri giovani se no diversamente poi bisogna capire in futuro avremo un calcio molto più ridimensionato Presidente passato presente e futuro senza l'aggregazione senza l'arrivo di formazioni dalle province limitrofe non si potrà continuare ma era indispensabile farlo come se era indispensabile anche i nostri confini se la regione dal punto di vista politico ci sarebbe la possibilità di allargare i confini come l'abbiamo fatto noi con il calcio credo che abbiamo qualche possibilità in più perché recuperiamo abitanti e ricopriamo anche possibilità di centri che sono abbastanza importanti questo è importante però noi andiamo avanti siamo attenti su tutto cerchiamo di stare molto vicino alle società e cerchiamo e spero fortemente che insomma il sistema continui anche nel tempo perché è un sistema sociale importante dei giovani ma non solo dei giovani e con questo si chiude il telegiornale grazie per averci seguito arrivederci a Grazie a tutti.